Sono soprattutto del settore agroalimentare le aziende che fatturano di più in provincia di Trapani e che quindi trainano l'economia. Fra queste ce ne sono però altre che si occupano di cablaggi e cabine elettriche, concessionarie di autovetture e trasporti marittimi. Fra le dieci imprese che nel Trapanese hanno il più alto fatturato, secondo i dati raccolti da Reportaziende e le statistiche di Consodata, ce n'è anche una fondata e guidata da Alcamesi. Si tratta della CEP che si occupa di componenti elettrici, cablaggi e cabine elettriche, che ha realizzato i suoi stabilimenti in contrada Fegotto, in territorio di Caratafimi. L'azienda dei fratelli Melodia è al nono posto della classifica. Nel 2019 ha fatturato quasi 44 milioni di euro, incrementando rispetto all'anno precedente anche come utili. Che ha fatto meglio è la catena di supermercati Mio Mercato, degli imprenditori cassellammaresi Blonda, che ha prodotto un fatturato di quasi 38 milioni di euro, ma un calo rispetto al 2018 e una perdita d'esercizio di quasi 3 milioni. In testa c'è sempre la Nino Castiglione, la storica azienda trapanese, leader nel settore itico e nella conservazione del tonno, l'unica in provincia a superare la soia dei 100 milioni di fatturato annuo. Con precisione nel 2019 la Castiglione ha fatturato 114 milioni 452 mila euro. L'andamento del fatturato è stato in costante aumento negli ultimi anni. Seconda in provincia per fatturato è Catinermes, che ha sede a Santa Ninfama, che opera su tutto il territorio. Nel 2019 ha registrato un fatturato di 85 milioni e 61 mila euro, in aumento del 5,47%. Gli utili però sono diminuiti. Sullo gradino più basso del podio c'è la Liberty Lines, la compagnia di navigazione veloce che negli ultimi anni ha subito comunque grossi scossoni a casa delle recenti vicende giudiziarie. La quarta azienda per fatturato in provincia trapanese è la duca di Salaparuta, vale a dire ancora una volta del settore vinicolo, con sede a Marsala. E' l'azienda che detiene anche il marchio Florio. Nel 2019 ha registrato un fatturato di poco superiore ai 39 milioni di euro, ma da anni registra perdite d'esercizio. Alla quinto posto nel trapanese, come fatturato, c'è la sottile, il gruppo che detiene il marchio Deco e Superconveniente, che ha sede a Trapani. L'azienda di supermercati ha registrato un imponente aumento di fatturato di oltre il 57% nel 2019. Segue, con aumento di fatturato e di utili, la concessionaria SP Auto, che ha sede a Mazzara del Vallo, che nell'ultimo anno ha registrato un più virgola 32% di fatturato.